ben trovati, grazie per essere presenti oggi a questa nuova puntata di Export Talks, il format ideato dai C-Partners nel duemilaventi per dare informazioni dai mercati sui mercati, è un format snello, smart, di soli trenta minuti e destinato alle aziende che intendono avviare o sviluppare un'attività all'estero. I C-Partners è la più grande piattaforma di entry strategy di supporto agli investimenti diretti esteri delle imprese italiane, con le nostre ventisette sedi dirette nei principali mercati globali e le trenta partnership ci permettono di raggiungere offline quarantasette paesi ed online centonovanta. Il nostro vantaggio competitivo è quello di operare direttamente dai mercati esteri offrendo servizi professionali e di temporary export management. Oggi continuiamo a parlare di come usare il digitale per crescere all'estero e nello specifico affronteremo la tematica degli strumenti. Ne parliamo con Egidio Murru eh il nostro ehm cofondatore e chef commercial officer di Webidoo, nostro partner digitale. Egidio, ti ringrazio moltissimo per aver accettato l'invito. Beh, ciao, ciao Mariela, grazie a voi dell'invito, sempre un piacere. Abbiamo come al solito trenta minuti a disposizione, nel frattempo chi è interessato può scrivere in chat le domande o può prenotare sempre in chat i B2B. Questi ultimi ricordo che potete poi prenotarli anche in un momento successivo attraverso il link che vedete alle mie spalle info.cpartners.it slash export talks. Vi ricordo che questo talk come tutti gli altri poi sarà presente sui canali di YouTube e Spotify. Ma entriamo nel vivo eh dopo questi tecnicismi appunto dovuti perché per chi per chi ci ascolta anche poi dopo indifferita ehm ecco entriamo nel vivo della nostra conversazione. Gidio come anticipavo appunto all'inizio di questa live questa è la seconda puntata dedicata al tema del digitale e abbiamo visto appunto come la pandemia ha accelerato questo processo in atto che poi è diventato chiaramente inarrestabile che ogni impresa oggi deve necessariamente appunto adeguarsi ad avere una presenza digitale. Però ecco eh quali sono i primi passi che lato digitale un'impresa deve compiere se vuole crescere nei mercati esteri? Eh ma guarda eh sì è vero ehm la pandemia ha accelerato estremamente questi questi meccanismi eh una delle cose che che la pandemia ha evidenziato per tante piccole e medie imprese è il fatto che siano molto spesso frammentate cioè che abbiano tanti presidi separati quindi il nostro primo approccio è sempre quello fondamentalmente eh di fare un assessment quindi di fare un check up che noi chiamiamo proprio eh test digitale check up per ogni azienda eh e questo è uno strumento unico che abbiamo sviluppato in essere dentro dentro Webidoo e che in maniera molto oggettiva dà la visione e la presenza di tutte le caratteristiche digitali di quell' azienda quindi se il sito web è aggiornato se è coerente con i social se eh se ci sono delle criticità anche tecniche e così via eh quindi è come andare dal medico fondamentalmente eh facciamo le analisi del sangue per ogni azienda e in base poi ai risultati sappiamo dove dove intervenire perché un'altra delle caratteristiche del digitale per le piccole e medie imprese è che non sempre si debba buttare il bambino con l'acqua sporca ma che eh invece si possa conoscendo dove intervenire fare delle azioni specifiche e migliorare magari quell'aspetto invece su altri se si è molto avanti io per esempio eh ho mh un paio di slide per 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 condividervi ecco questo ragionamento eh questo qui è proprio uno strumento che noi abbiamo che ne abbiamo sviluppato e all'interno di un'unica interrogazione semplicemente con il con il con l'url col dominio del del cliente si può eh fare l'analisi per esempio dell'aggiornamento dei propri canali social come dicevo della piattaforma utilizzata eh si crea una reportistica facile anche nell'interpretazione dei risultati perché è un altro un altro elemento che molto spesso gli imprenditori non sanno eh ben interpretare questi valori eh misura le performance nel tempo eh diciamo che abbiamo raccolto tutte le informazioni di vari strumenti che sono presenti sul mercato digitale tipo SEMrush Google SEO Zoom e così via e abbiamo messi tutti insieme in modo che l'imprenditore possa grazie al nostro supporto fare un unico check up e poi muoversi di conseguenza infatti per esempio uno degli elementi è eh mettendo la ragione sociale si evidenziano tutte le informazioni innanzitutto locali eh del dell'azienda quindi se sono giusti i numeri di telefono molto spesso si scopre che le aziende hanno da qualche parte sul web numeri di telefono sbagliati o cose di questo tipo e e poi si si tira fuori un un risultato che può essere messo sia in confronto col proprio mercato sia addirittura in confronto con con altri competitor ecco questa è una schermata che evidenzia come per esempio ci sono degli elementi verdi su cui non bisogna intervenire e degli elementi rossi in cui nel dettaglio si può capire eh non solo quale sia il problema ma anche le soluzioni che si possono attuare quindi è un vero e proprio check up che aiuta l'imprenditore a capire come è messo sul sul digitale e quindi ovviamente noi diamo un supporto su ogni azienda per spiegare come interpretare questi dati e soprattutto le soluzioni da da attuare. Beh trovo assolutamente interessante perché il primo post diciamo il primo punto per partire no per capire insomma dove siamo prima di andare ad intervenire sulle sulle varie criticità e appunto proprio per legarmi alle criticità quali sono per esempio gli strumenti che possiamo mettere in campo e che mettete in campo per aiutare le imprese a superare eventuali criticità? Ma guarda come anticipato nel nostro precedente incontro quello che abbiamo fatto con Roberto era proprio in pubblicazione ufficiale la nuova piattaforma che abbiamo sviluppato che si chiama Juiz e due anni di sviluppo che abbiamo proprio sviluppato sul mercato internazionale che abbiamo sviluppato negli Stati Uniti. Parlando con tante aziende con tante piccole e medie imprese oltre a fare il check up molto spesso ci siamo resi conto che i problemi di aggiornamento erano comuni cioè tutte le tutte le aziende hanno fondamentalmente necessità di semplificare tutti i loro tutti i loro accessi al digitale di ottimizzare le loro le loro attività sul digitale però l'imprenditore è da solo in questo mondo quindi noi abbiamo creato il primo sistema la prima sistema di digital marketing per le piccole e medie imprese che oggi è sul mercato abbiamo rilasciato proprio un paio di un paio di settimane fa anche questo è scusate visitabile ecco qua l'ho messo assolutamente sì mostriamolo perché sicuramente molto interessante anche oltretutto oltretutto nella fase di lancio permette la registrazione gratuita delle aziende in modo che possano muoversi in un primo in un primo servizio subito ecco questo strumento nasce proprio da cinque anni di ricerca dove abbiamo capito che molte aziende non hanno bisogno di troppi strumenti complicati o almeno hanno bisogno di tanti elementi ma che siano facilmente interpretabili e soprattutto tagliati per il loro per il loro business devono riuscire a far performare la propria azienda con tre quattro passaggi perché perché l'imprenditore ha un principale interesse cioè far crescere la sua azienda ma non ha tutto il tempo del mondo per formarsi per 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 stare appresso all'evoluzione del mercato e quindi abbiamo creato un sistema con intelligenza artificiale che in base a ogni azienda indica quali siano le soluzioni da attuare se si va sul sito juice.com c'è proprio la la spiegazione di questa piattaforma che unifica semplifica e accelera ovviamente tutte le per tutte le attività di digital marketing per le piccole e medie imprese e si gestisce eh l'agenda si gestiscono i contatti c'è addirittura all'interno un mini commerce proprio per far provare anche la possibilità di vendere all'imprenditore così l'imprenditore scopre che magari l'e-commerce è un mercato che gli interessa oppure come gestire tutte le proprie campagne campagne pubblicitarie tutto in maniera molto semplice gestito da uno sistema di intelligenza artificiale che abbiamo sviluppato dove semplicemente collegando ciò che già c'ha l'imprenditore la sua fan page il suo profilo google e così via eh il sistema genera eh le le buone guide e i buoni passaggi da che gli permettono per realizzare magari una campagna o per eh fare un email marketing eh oggi il tutto ovviamente misurato in maniera chiara semplificato ma non ci fermiamo a quello aiutiamo anche l'imprenditore a formarsi perché all'interno come come si può vedere poi magari facciamo proprio un giro dentro c'è tutta una parte dedicata anche a costante aggiornamento con pillole molto pratiche eh create da esperti per ogni settore quindi in base al dal settore il ristoratore avrà le sue informazioni e eh l'industria produttrice magari di metalli avrà le sue eh l'imprenditore può crescere nel digitale e imparare nuove soluzioni eh gestire le recensioni ecco abbiamo raccolto tutte le informazioni che potevano essere necessarie all'impresa per ottimizzare e crescere nei propri servizi eh qua per esempio andando su accedi io ovviamente sono sono logato molto semplice perché non c'è bisogno di ulteriore registrazione se non i propri canali social già attivi qua il sistema ovviamente riconosce che io sono già registrato ad oggi in fase di lancio noi possiamo permettere alle aziende di registrarsi e di utilizzare una parte della piattaforma in maniera gratuita ehm c'è ovviamente una parte invece a pagamento con una serie di servizi servizi in più ma già nella versione diciamo completamente gratuita eh vedete si possono si possono fare tutta una serie di operazioni si possono gestire le integrazioni col sito gestire le recensioni su google eh crescere su fare l'e-commerce e così via quindi tutto questo tipo di tutto questo tipo di di azione oggi è sul mercato tantissime aziende si stanno registrando proprio in questi giorni perché gli semplifichiamo la vita fondamentalmente in tre passaggi loro riescono a fare dall'e-commerce alle agende a facebook a link e così via e soprattutto a tenere tracce quindi semplifichiamo ciò che è complesso e come spesso succede per semplificare bisogna togliere tanta complessità bisogna lavorare tanto per rendere per rendere facile il tutto il tutto ovviamente con soluzioni misurabili e chiare devo dire assolutamente interessante ma mi viene da chiederti ehm questa possibilità appunto di registrarsi al momento gratuita poi successivamente diventerà pagamento o resterà comunque per ora e poi dopo ci saranno moduli a seconda della crescita credo a questo punto anche personalizzata giusto? Sì 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 esatto eh allora ehm nella nostra nella nostra visione una parte gratuita rimarrà sempre perché comunque le funzionalità base eh di ottimizzazione della propria presenza online pensiamo che possano essere sempre utili eh lasciarle gratuite poi ovviamente le versioni a pagamento avranno n e n implementazioni banalmente la gestione di campagne tiktok l'internazionalizzazione tutti quegli elementi che ovviamente non possono essere nella versione gratuita ma che ci permettono eh di accompagnare l'azienda magari su su mercati su mercati più ampi eh la cosa interessante di una piattaforma di questo tipo è che in pochino evoluzione proprio come il web perché il digitale il web è in continua crescita quindi domani ci sarà magari un altro scenario allora si farà un'altra eh un'altra implementazione eh la cosa interessante è che chi ha ovviamente una versione a pagamento eh avrà tutti i vantaggi delle delle future implementazioni poi probabilmente molte di queste alcune di queste le metteremo anche nella versione free nella versione free ma spingiamo a dare il valore aggiunto della nostra professionalità ovviamente sulle versioni a pagamento ottimo direi veramente molto interessante perché ecco semplifica e devo dire che oggigiorno c'è sempre tanta necessità no di eh essere presenti ma gestire in maniera anche diciamo semplice alla portata di tutti ehm quelle che sono appunto le presenze poi sul sul digitale e non so se volevi darci qualche aggiunta in più su quali potevano essere questi momenti i servizi eh che fornite ecco nel pacchetto iniziale eh sì allora guarda ai nostri utenti su che cosa si aspettano quando appunto vanno su juice allora quello quello che state vedendo qua è ovviamente già una parte free volutamente quindi non vi faccio vedere una parte a pagamento nella parte free già potete gestire la pubblicità quindi collegare il vostro account pubblicitario su facebook e su google e poter creare campagne pubblicitarie potete gestire prenotazioni sia di bene che di servizi non solo banalmente uno studio di commercialità può decidere di aprirsi al mondo e gestire un sistema centralizzato dei propri appuntamenti e magari eh decidere di farsi prenotare le consulenze eh può il sistema all'interno a meccanismo di intelligenza artificiale che raffina col tempo tutte le attività le informazioni che io che io vado a inserire eh come vedete qua ci sono delle percentuali infatti se entro qua dentro eh come tutti questi sistemi eh c'è un source di di intelligenza artificiale che prende e elabora le informazioni su ogni singola azienda su ogni singolo account perché magari le aziende sono anche simili per categorie ma sono differenti eh per specificità località bisogni storicità e così via quindi io qua per esempio posso eh posso per esempio ipotizzare di fare una prima campagna pubblicitaria eh online vedete vengo accompagnato eh già nelle versioni free posso fare campagne sui social quindi Facebook e Instagram su LinkedIn e su e su TikTok nelle versioni a pagamento eh posso aggiungere funzionalità più dettagliate per Facebook e per Instagram per LinkedIn posso io fare delle campagne più specifiche per TikTok ehm indipendentemente da dalle versioni noi comunque accompagniamo con un sistema di intelligenza artificiale cliente a ottimizzare le performance di queste campagne molto spesso questi software hanno l'unico interesse eh al meno quello del competitor eh di far spendere più budget al cliente in realtà eh abbiamo sviluppato questo sistema proprio per capire come far ottimizzare le performance del cliente eh perché poi l'investimento economico se ci sono dei ritorni ovviamente il cliente lo sostiene positivamente già nelle versioni free per esempio si possono gestire campagne di newsletter si possono gestire fino a 500 invi eh fino a 500 invi al giorno si possono gestire sms si possono gestire whatsapp business quindi creare e ottimizzare anche le tecnologie di di whatsapp in maniera molto semplice si clicca su eh un bottone vedete quindi si decide di fare che ne so una campagna su facebook e su instagram e si procede seguendo un si viene proprio accompagnati dall'intelligenza artificiale in quattro cinque passaggi per fare questo tipo di questo tipo di attività eh quindi abbastanza abbastanza semplice da questo punto di vista eh oltre a questo oltre a questo sì noi abbiamo lavorato sul concetto dei tre click cioè riuscire a ottenere qualsiasi risultato con massimo tre click oltre a questo ci sono ovviamente possibilità di eh scegliere pacchetti soluzioni eh anche solo a consumo magari questo mese voglio mandare sms compro e seleziono solo quella soluzione sms o quella soluzione di campagna che voglio fare questo mese quindi c'è anche da questo punto di vista una libertà da parte degli imprenditori di poter fare le campagne in in autonomia eh e in gestione il tutto guidato nel momento in cui fosse necessario può entrare in contatto con i nostri specialist e eh fissare una colonna ottimizzazione e un supporto da parte dei nostri eh dei nostri specialist che sono eh che sono in Italia e capire insieme come ottimizzare quel tipo di servizio eh poi ovviamente nelle versioni a pagamento ha più eh più più possibilità di servizio più possibilità di interazione come dicevo c'è anche la possibilità di imparare quindi è presente una piattaforma all'interno che ha proprio l'obiettivo di eh far capire quali siano i razionali e migliori modalità per crescere magari sui canali sui canali pubblicitari piuttosto che su come ottimizzare l'e-commerce e anche qua ci sono sono suddivise delle guide di tutorial adesso qua sta caricando le immagini eh guide di tutorial oppure tutti i corsi oppure corsi dettagliati fino ad arrivare a un abbonamento dove c'è un percorso che si chiama di masterclass con tanto di docenti internazionali magari di Google, di Alibaba e dei nostri dei nostri partner che spiegano magari aspetti anche molto tecnici il tutto con un repository quindi una piattaforma dove quei contenuti sono online e rimangono online anche se magari ne ho bisogno fra tre mesi voglio andare a rivedermi quell'appunto o quelle informazioni e tutto sotto ovviamente un mega controllo che ci permette nel tempo ci dice vedete come ottimizzare io sono al 44 per cento del completamento del profilo eh free eh se clicco qua sopra eh il sistema mi dice cos'altro dovrei fare per migliorare quindi probabilmente mi eh mi consiglia di collegare altri account mi consiglia di caricare un database mi dice come caricarlo per poi fare operazioni di di market successivo posso gestire ovviamente i pagamenti che ricevo e posso anche decidere di passare da un livello a un altro quindi decidere magari entro free però questo mese voglio eh ho bisogno della soluzione light e vado su light oppure decido di fare un servizio un abbonamento annuale quindi pago l'incisa cifra per un anno ovviamente risparmiando su un abbonamento annuale o tutta una serie di vantaggi piuttosto che 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 altre quindi queste sono le soluzioni che oggi noi abbiamo sviluppato sta avendo una buona notiziabilità una buona risposta proprio perché eh molti imprenditori hanno bisogno di semplificare il tempo di ottimizzare il tempo di semplificare la la possibilità di gestire al meglio i propri i propri canali digitali mi piace moltissimo perché comunque essendo modulabile si adatta probabilmente anche a quelli che poi sono gli obiettivi dell'azienda perché se mi dici che comunque si può modificare anche di volta in volta è proprio un vestitino su misura quindi questo sicuramente sì eh le da questo punto di vista il grosso lavoro è diciamo come sempre sotto il cofano qua c'è un lavoro che abbiamo sviluppato in più di due anni e mezzo negli Stati Uniti eh insieme alla MIT di Boston proprio per sviluppare un un sistema di intelligenza artificiale che sia in grado di eh distinguere tra le categorie italiane ovviamente internazionali e di riuscire per ogni azienda che fa magari anche lo stesso tipo di eh di servizio per categoria eh in realtà nessuna di queste è uguale perché sennò sarebbe come pensare che tutti gli esseri umani sono uguali perché hanno lo stesso numero di ossa o di organi mentre invece siamo tutti diversi quindi questo vantaggio questo lavoro eh poi premia perché eh l'algoritmo proprio l'abbiamo visto dà consigli molto specifici a un cliente sul proprio business e sulle proprie azioni da fare nel tempo eh con una certa logica anche predittiva cioè stava arrivando il Black Friday sta arrivando Natale in base alle base alle caratteristiche propone anche delle azioni per tempo in modo da consigliare anche le azioni eh le azioni di marketing da fare sul sul mercato questo diciamo anche per tutti i social media manager sì 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 assolutamente eh molto interessante quindi intanto grazie Giulio perché la carrellata è stata assolutamente fondamentale per farci comprendere diciamo tutte le potenzialità di questa piattaforma ma appunto sicuramente eh invitare anche l'iscrizione perché è in prima fase gratis di vantaggi da interessantissime sì già la parte gratis poi a noi piace eh rilasciare molte molte informazioni cioè molti servizi anche in maniera completamente free quindi basta andare su juiz.com e registrarsi eh le informazioni che che servono sono qualsiasi account social oppure mail aziendale eh data dell'azienda e ragione sociale e poi il software fa tutto il resto fa tutto il resto va chiede informazioni esatto chiede informazioni fa una serie di domande iniziali che durano veramente eh tre quattro minuti e poi col tempo stimola costantemente anche con report eh via mail delle nazioni da migliorare esattamente e un coach costante ecco da questo punto di vista ottimo ci affianca costantemente quindi questo è interessante ehm Gidio mi è piaciuta molto diciamo questa introduzione su Juiz però vorrei chiederti anche un altro argomento appunto vorrei parlare anche di un altro argomento che ci sta molto a cuore veramente ad entrambi e che è legato alla crescita appunto delle imprese sui mercati esteri insieme e insieme e ci parte questo lo dico per il pubblico abbiamo lavorato per trovare un prodotto che in questo momento invece colmasse un vuoto che al momento c'è nel nostro panorama e appunto quello di creare una piattaforma mi avviso uno stop shop che affiancasse appunto tutti gli strumenti di cui hanno bisogno le imprese per avviare sviluppare e crescere nei mercati esteri sia dal punto di vista offline che poi sono i servizi tradizionali di c partners eh che online che appunto sono sicuramente i vostri per questo motivo diciamo avendo unito le forze abbiamo creato una piattaforma che oggi abbiamo diciamo il piacere di anticipare ai nostri utenti che si chiama digital più export ovviamente il titolo è un po' provocatorio che però appunto questa piattaforma sarà operativa dal 2023 però se hai idea e Gidio ci puoi mostrare qualche anticipazione sì ecco qua qua proprio nasce dalla collaborazione appunto tra Webidoo e i cn partner proprio perché anche lì con la visione Webidoo e la visione i cn partner ci siamo resi conto che mancava proprio c'era c'era un vuoto sull'avere un unico punto soprattutto verso il mercato delle piccole e medie imprese sul eh cosa fare come farlo dove andare quando ecco riuscire a soddisfare tutte queste esigenze magari per chi voglia eh coniugare sfruttare il vantaggio digitale verso verso l'export quindi abbiamo creato questa prima piattaforma che ad oggi abbiamo è già è già pubblicata sul mercato ma che appunto sarà in continua evoluzione eh dove dove si possono trovare proprio eh i vantaggi e le competenze e l'esperienza di due aziende molto verticali su alcune categorie che si sono appunto parlate per portare i maggiori vantaggi di entrambe eh anche qua come potete come avete visto no con il nostro approccio che che condiviso il DNA comune diciamo tra eh i cn partner e Webidoo è proprio quello di fare degli assessment quindi la prima cosa è ok come sei messo sul digitale ok qual è il tuo il tuo export check out quindi capire quali sono le modalità o come sei messo quanto sei pronto ad andare sull'export e quindi fare un'analisi un'analisi di questo tipo perché l'approccio è eh metodico ed è oggettivo quindi in base ai risultati si può lavorare per migliorare poi trovare trovare anche il modo migliore per lavorare per esempio una delle sezioni eh che chiede più visite che che riporta anche più visite e e questo è un anteprima ovviamente export 360 dove all'interno di quest'area sono presenti fondamentalmente eh la cassetta degli attrezzi chiamiamola così per riuscire a crescere positivamente sui mercati esteri dall'aspetto digitale all'aspetto finanziario a riferimenti eh pubblicitari alla ricerca di personale e così via quindi diciamo che qua eh un imprenditore che vuole misurarsi su questi mercati internazionali oggi nel duemila e ventidue duemila e ventitré eh riesce ad avere una mappatura certa e chiara di quello che siano i migliori passi eh da fare e soprattutto come sfruttare al meglio sia il digitale sia l'esperienza appunto di di Cian Partner in modo da avere un un punto di partenza. Eh un'altra cosa estremamente interessante quindi qui è pieno di ovviamente informazioni specifiche ma l'altra cosa molto interessante è che tante aziende oggi eh chiedono un'ora di consulenza gratuita che sia sia web edu che Cian Partner ha deciso di di dare un un po' come la versione di Juis proprio per parlare con l'imprenditore e capire l'imprenditore che vuole magari misurarsi sull'estero eh lasciando semplicemente i suoi riferimenti eh si pianifica un'ora di di consulenza gratuita e si capisce a la sua presenza digitale b eh quali siano le migliori eh leve strade e opportunità per andare effettivamente sull'estero in maniera eh trasparente quindi ci si ci si porta avanti con un'ora di consulenza effettivamente gratuito. Ah sì. È già un'anteprima ma eh sì. Siccome stiamo lavorando è gennaio dietro l'angolo come sempre. Esatto esatto anche perché diciamo. Però è già operativa. È operativa sì. È in evoluzione perché ci sono ovviamente tanti tanti aspetti da inserire però già diciamo il cuore il motore è praticamente quasi completo. Sì sì intanto ecco grazie per averla anticipato anche perché appunto ci teniamo anche tutti a questa piattaforma e a nostro avviso va a colmare un vuoto che in questo momento c'è cioè racchiude appunto tutti i servizi che servono all'imprenditore, all'impresa per entrare, crescere o svilupparsi sui mercati esteri proprio a trecentosessanta gradi sia lato export sia lato appunto in pre apertura eventualmente di quella che può essere una società all'estero che appunto parte digitale quindi tutte le tematiche legate a questo mondo le abbiamo ora chiuse in questa piattaforma. E Gidio grazie per siamo alla fine mancavano pochissimi minuti quindi io passerei alle domande dal pubblico e la prima è come si ottimizza la presenza di un'azienda sul web? Questo immagino sia un tuo parere insomma. Eh ok ma eh innanzitutto come con il nostro prassi facendo un check up quindi sapendo bene cosa c'è da ottimizzare e cosa invece è già va bene. Eh i primi passi sono di reperibilità. Molto spesso le aziende investono budget su comunicazioni molto ampie poi magari si perdono nel fatto che non sono eh eh rintracciabili e reperibili. Quindi sicuramente un check up, una fotografia per capire come si è messi e che dove intervenire è il primo passo. Eh poi dipende se una ricerca se l'ottimizzazione è locale o internazionale. Sono due mondi diversi. Locale è nell'arco di una regione o anche nazionale. Internazionale sono necessari logiche diverse. Eh banalmente i tedeschi non cercano su Google come gli italiani. Eh nel mondo noi siamo convinti che tutto funzioni come pensiamo noi. In realtà l'esperienza appunto di un partner cominci a in parte aiuta per sapere non solo l'aspetto normativo e di come gira il mondo all'estero ma anche l'aspetto eh soggettivo è meno meno catalogabile all'interno di di un report di analisi. Come gira il mondo da qualche altra parte. Assolutamente. Allora un'altra domanda. Quali sono i costi per accedere alla piattaforma Juiz? Qualcosa si è visto? E alla piattaforma digital più export? Allora eh i costi come vi ho detto noi lasceremo una versione free con alcuni con alcune limitazioni eh su Juiz si può scegliere di entrare anche con soluzioni mensili quindi un po' come Netflix ecco questo il ormai il mondo sta andando in quella direzione quindi posso anche attivarmi un mese due tre poi staccare. Oppure si decide risparmiando qualcosa di fare un servizio annuale. Eh noi partiamo dai 840 euro all'anno fino ai 1200 se non ricordo male eh all'anno eh però come ho detto esistono varie soluzioni. L'imprenditore può anche decidere in base della copia di stradionalità di usarlo solo tre quattro mesi. Eh mentre invece su digital più export molte di quelle informazioni sono fruibili sul sul web come avete visto è un po' un'anticipazione ehm un consiglio che vi do eh più che concentrati sui costi eh chiedete la consulenza gratuita perché la consulenza non vi costa nulla. Vi portate a casa comunque un assessment aziendale sia sul digitale che sul mondo export e e poi ovviamente in base a ciò che emerge si possono fare le scelte. Pasciarsi la testa prima sia prima di essersi la lotta non ha granché senso. Prima facciamo il test prima facciamo le analisi e poi si capisce come intervenire. Grazie. Allora un'altra domanda eh sempre su Juiz. Chi ha già una piattaforma per gestire newsletter può integrarla con Juiz? Eh sì eh già oggi infatti è un sistema puli 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 funzionale eh già oggi può inserire MailChimp eh eh action mail e così via. Ovviamente eh noi stiamo inserendo quanti più partner possibili eh il grosso vantaggio è che prende quei dati li lavora però combinandoli anche con dati che oggi magari nella piattaforma di mail non non dialogano. ok e l'ultima ma qui credo siamo deciso dalla home di Webidoo come si accede alla pagina di digital più export sono due pagine differenti quindi sì digital più export punto it www digital più export sì. Direi che non vedo altre domande no c'è l'ultima carrellata no non ci sono domande benone quindi direi che possiamo chiudere e intanto grazie Egidio per averci fornito grazie a voi queste informazioni queste anticipazioni sicuramente interessanti poi appunto ricordo a tutti che Egidio è a disposizione per i B2B e che potete prenotarli sia ora quindi in chat oppure scriverci per chi ci ascolta indifferita da info eh chiocciacipartners.it oppure sulla pagina che vedete appunto le mie spalle. Grazie a tutti per aver partecipato ci fermeremo adesso per la pausa natalizia ma torniamo a gennaio con tante nuove novità. Grazie a tutti. Grazie a voi sempre dell'ospitalità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.